Amara sorpresa domenica pomeriggio in un noto albergo cittadino dove sono stati rubati dei soldi da una cassettina per una raccolta benefica da destinare alle famiglie più bisognose della città. I gnoti hanno infatti forzato l'apertura della cassettina prelevando solo le banconote e lasciando le monetine. Un'idea quella della raccolta a fondi nata durante il periodo delle festività natalizie, contestualmente all'allestimento del presepe nell'hall dell'hotel, cura di Vincenzo Acquaviva, Isabella Occhipinti, Rosanna Anzalone e Chiara Martorana. Un'iniziativa di solidarietà sposata favorevolmente dal direttore del noto hotel cittadino Massimo Inzoli, ammareggiato per il Vile e Gesto, l'ennesimo compiuto in città durante le festività natalizie, tra cui il furto del presepe nella scalinata di Via Lazio. Domenica, ahimè, è stata fatta questa amara scoperta, nel senso che la cassettina che era stata destinata alle offerte per aiutare il quartiere Provvidenza è stata manomessa, mettiamolo così. Quindi sono stati rubati appunto dei soldi da ignoti che hanno ben pensato di fare questo vile gesto e quindi amara sorpresa appunto. Naturalmente abbiamo rimediato tra colleghi, però resta appunto il principio del gesto fatto che è una cosa veramente cattiva devo dire. Questi soldi appunto erano e saranno comunque destinati al comitato di quartiere Provvidenza San Giuseppe con a capo Carmen Frau, che si occupa appunto di tutte quelle attività del quartiere, dei più poveri del quartiere, dei misseni del quartiere Provvidenza. Gesti che al giorno d'oggi devono lasciare pensare, in città ne sono successi anche altri, quindi come la società un po' sta cambiando, sono delle cose veramente meschine. Per fortuna, ripeto, è stata sistemata la situazione e quindi sicuramente riproporremo il tutto nei prossimi anni, nelle prossime occasioni, non ci lasceremo appunto fermare da queste bravate.